parliamo oggi della letteratura che nasce in italia agli inizi del novecento il cosiddetto decadentismo questa corrente letteraria no il decadentismo prima però di parlare di letteratura va fatto un piccolo inquadramento storico per capire che cosa è accaduto agli inizi del 1900 e dunque noi sappiamo che a fine alla fine del 1800 è partita la seconda rivoluzione industriale grandi progressi in tutta europa le acciaierie l'elettricità la lampadina la i progressi della medicina della scienza il telegrafo la radio marconi le multinazionali che si organizzano le banche è partito diciamo il cosiddetto mondo moderno anche se le diseguaglianze sociali sono molto forti perché perché il progresso l'ha voluto la borghesia e l'ha voluto per arricchirsi e quindi abbiamo delle classi sociali molto ricche i borghesi e delle classi sociali che stentano a vivere gli operai i contadini e in alcune aree geografiche d'europa è partito un grande progresso ma in alcune aree geografiche d'europa non è partito nessun progresso e parliamo soprattutto dell'italia meridionale e questa mancanza di progresso non solo nell'italia meridionale ma in tante aree d'europa va a influenzare poi la letteratura in qualche modo no che cos'è accaduto agli inizi del novecento beh noi vediamo che nel 1914 scoppierà la prima guerra mondiale e che in quegli anni è partito questo progresso ci sono in europa degli schieramenti contrapposti la triplice alleanza da una parte stipulata a fine ottocento tra austria italia e germania e c'è la triplice intesa dall'altro lato stipulata nel 1907 tra inghilterra francia e russia queste due alleanze che sono alleanze militari sono alleanze politiche vanno a influenzare anche la letteratura in qualche modo perché influenzano quello che accade nella vita nel 1918 c'è stata la rivoluzione russa il leader era lenin è nato lo stato socialista sovietico un gran una grande esperimento esperimentazione su politica sociale il proletariato che va al governo e non le classi alte alla fine della prima vera mondiale un'altra grande novità è che sono caduti i due grandi imperi l'impero austro-ungarico non esiste più perché l'austria perderà la prima guerra mondiale e non esiste più neppure l'impero ottomano nelle mani della turchia si dissolvono questi due grandi imperi e nascono tante piccole nazioni questo è il quadro generale che abbiamo di fronte nei primi 18 anni del 1900 che cos'è accaduto nel frattempo mi piace dire che sono nate due grandi personalità che vanno a influenzare sia la storia che la letteratura che la filosofia uno è Einstein Einstein fa una scoperta la relatività che cosa dice tutto è relativo non esiste in maniera assoluta una verità tutto è relativizzabile cioè tutto può essere ridiscusso probabilmente le verità sono molteplici non è una sola con questa formula la scoperta della relatività certamente lui la scopre evidentemente in fisica ma la relatività va a coinvolgere la filosofia la letteratura la vita addirittura perché noi abbiamo visto che con verga il naturalismo credeva in che cosa credeva nella possibilità di raccontare oggettivamente i fatti che si svolgono davanti a noi quindi lo scrittore Giovanni Verga o Luigi Capuana o De Roberto Siciliano o Matilde Serrao Napoletana o Grazia de Leda Sarda questi autori veristi mirano a fotografare la realtà a fine ottocento dopo Einstein è difficile fotografare la realtà perché con Einstein e la relatività si scopre l'importanza della soggettività umana che fotografa cioè io nel momento in cui fotografo scelgo una parte di realtà da farti vedere non esiste più l'oggettività ma esisterà la soggettività umana cioè io nel momento in cui ti racconto una storia scritta o ti faccio una fotografia o ti giro un film o ti scrivo una poesia non posso raccontarti l'oggettività perché l'oggettività non esiste è tutto relativo ti posso raccontare la mia soggettività ma come legge quei fatti che stanno accadendo pertanto Einstein influenzerà la letteratura europea del 1900 tutto sarà relativo un'altra personalità importante che nasce è Freud Sigmund Freud scopre agli inizi del novecento la psicanalisi lo studio della psiche umana purtroppo le condizioni sociali ed economiche dell'Europa di quegli anni degli inizi del novecento abbiamo da una parte la borghesia ricca e da altre parti sociali classi molto deboli che non hanno neppure i soldi per comprare il pane ma anche all'interno della classe borghese di quelli che detengono il potere che hanno tanti quattrini nascono problematiche psicologiche psichiche pertanto Freud cerca di inventare un sistema medico sanitario che possa in qualche modo aiutare chi soffre chi soffre con che cosa che malattia è è una malattia della psiche non è follia è semplicemente debolezza incapacità di agire bene queste due personalità Einstein e Freud influenzeranno la letteratura chi esprime meglio questa angoscia umana questa relativizzazione dell'uomo dell'individuo dei poeti che sono decadentisti in italia sono pascoli dannunzio italo svevo pirandello tra i quattro citati chi centra meglio la debolezza umana e l'angoscia del vivere è proprio italo svevo con la coscienza di zeno lo vedremo poi dopo ma in europa nasceranno altri autori anch'essi che mirano a raccontare l'uomo relativo del novecento l'uomo debole svevo lo chiama linetto colui che non ha capacità di azione d'annunzio sarà un po diverso perché d'annunzio crede nel superuomo crede nella grande possibilità del superomismo lo prende da un filosofo questo concetto tedesco che si chiama friedrich nice l'uomo artefice del proprio destino d'annunzio è un decadentista un po anomalo italo svevo pirandello ritengono che il superuomo non esista che tutto è estremamente relativo è che l'uomo è debole angosciato dalle mille identità che l'uomo stesso non può capire se stesso figuriamoci se può interpretare la realtà che vede in europa sulla scia di questi grandi autori citati ci sono in francia marcel proust che scriverà alla ricerca del tempo perduto c'è in germania c'è kafka thomas mann in america in inghilterra è un autore di dublino ma che poi vive a londra per un periodo dove viverà anche a trieste diventerà amico proprio di italo svevo c'è questo autore che si chiama james joyce che scrive l'ulisse gente di dublino e altre opere bene nasce un'altra tecnica narrativa addirittura il dialogo interiore cioè non si narra più con cognizioni sintattiche grammaticali oggettive ma ben organizzate armoniche ma addirittura la il modo di parlare diventa popolare e in più psicotico si chiama flusso di coscienza c'è uno chiudo gli occhi e il flusso di coscienza come ti come ti come si dove ti fa andare ti fa andare ti fa procedere per associazioni di idee da una cosa all'altra pertanto pertanto questi autori rappresentano al massimo grado gli inizi del novecento europeo e cambiano e la letteratura europea si modifica il suo assetto come modifica il suo assetto la letteratura italiana nel frattempo in europa che cosa accade nei primi 20 anni del novecento nascono le avanguardie storiche cosiddette nasce il futurismo in italia grazie a filippo tommaso marinetti che crede il futurismo in italia crede nella guerra crede nella velocità crede crede nella possibilità dell'uomo di vivere in maniera veloce e la guerra come azione purificatrice dell'umanità il il futurismo in italia nasce il dadaismo altri artisti europei che credono nella scomposizione dello spazio della figura eccetera il simbolismo il surrealismo la surrealtà nasce nasce addirittura in germania l'espressionismo l'espressionismo prende forza soprattutto in germania ed è sì diciamo che l'espressionismo si si sintonizza con l'interiorità più pura e il codice che usi di più è la pittura i grandi pittori espressionisti vogliono dar vita quanto di interiore c'è nell'animo umano e quindi il decadentismo italiano alla fine che cos'è è semplicemente il decadentismo è l'attenzione all'interiorità umana al soggetto al soggetto nella sua interiorità più pura i massimi poeti autori del decadentismo italiano sono giovanni pascoli gabriele d'annunzio italo svevo e pirandello anche se i quattro avranno un modo diverso di operare di concepire la letteratura e dunque negli ultimi anni del 1800 e agli inizi del novecento nasce il in italia questa corrente letteraria chiamata decadentismo ma vediamo come ci spiegano il decadentismo i ragazzi della terza a sentiamone qualcuno allora il decadentismo fu un movimento letterario artistico che si sviluppò tra la fine dell'ottocento e l'inizio del novecento prima in il progresso economico cioè la belle poche provoca questo progresso economico un crescendo disagio negli artisti che erano distanti dal dalla società che aveva l'obiettivo della produzione del guadagno e quindi il decadentismo nasce in una situazione economica di benessere in alcune aree geografiche soprattutto il nord dell'italia nasce però in controtendenza rispetto alla società vale a dire gli artisti e soprattutto gli artisti francesi ed italiani sentono la necessità di discostarsi da una società borghese che ha come obiettivo il guadagno e la produzione l'obiettivo primario della della belle epoche della seconda rivoluzione industriale è guadagnare e produrre questi artisti invece vogliono spostare l'asse non amano né guadagnare né produrre amano la spiritualità l'interiorità la vita psichica interiore interna ed amano sfidare la società borghese in francia ci sono tre poeti baudelaire mallarmè verlaine i quali prediligono una poesia pura che non deve educare che deve portare l'uomo a indagare sul proprio mistero l'obiettivo dell'arte non è produrre l'obiettivo dell'arte è indagare il mistero dell'uomo il mistero della vita sono tre poeti ribelli addirittura baudelaire scrive un'opera che si intitola poesie si intitola i fiori del male sentite lo simoro un termine che nega l'altro i fiori possono essere i rappresentanti del male o il male può essere rappresentato dai fiori e invece per baudelaire il male quello che la società borghese definisce male e che è margina contiene dei fiori i fiori del male sono tre poeti che svolgono anche una vita in netta contraddizione rispetto ai prossimi posti borghesi sfidano la società corrente amano 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 addirittura arrivano a drogarsi arrivano a fare uso di alcolici di una sessualità una sessualità assolutamente libera anche nelle loro vite amano sfidare i canoni della società borghese e malarmè e verlaine addirittura diventano omosessuali ed è uno dei primi casi dichiarati nella poesia mondiale di due poeti manifestatamente omosessuali senza che provano nella maniera più assoluta vergogna per la loro scelta di vita questi poeti francesi vanno a influenzare tutta la poesia europea e quindi anche il decadentismo italiano nasce cioè una visione dell'arte che si oppone al presupposto del guadagno e della produzione che ama la vita spirituale la vita interiore la poesia più rappresentativa dei simbolisti francesi di questi tre poeti è sicuramente l'albatro di charles baudelaire l'albatro è un uccello che segue bianco enorme che segue le navi le barche no nel mare è un uccello libero per eccellenza e in questa poesia baudelaire identifica questo uccello libero lo identifica con la società cioè la società prende cattura quest'uccello lo cattura lo porta sulla barca e lo ridicolizza lo mettono là chi sghignazza a destra chi lo prende in giro chi gli mette addirittura la pipa in bocca per farlo fumare in qualche modo l'albatro è il poeta il poeta che contro la società la società è fatta di marinai che non si divertono a guardare la bellezza dell'albatro che vola ma si divertano ad acchiapparlo a portarlo sul ponte della nave legate le zampe a ridicolizzarlo e a mettergli addirittura la pipa in bocca ve la leggo l'albatro spesso per divertirsi le ciurme catturano degli albatri grandi uccelli marini che seguono compagni di viaggio pigri il veliero che scivola sugli amari abissi e li hanno appena deposti sul ponte che questi re dell'azzurro impotenti e vergognosi abbandonano malinconicamente le grandi ali candide come remi ai loro fianchi questo alato viaggiatore come goffo e leggero lui poco fa così bello come comico e brutto qualcuno gli stuzzica il becco con la pipa un altro scimmiotta zoppicando l'infermo che volava il poeta è come il principe delle nuvole che abituato alla tempesta ride dell'arciere esiliato sulla terra fra gli scherni non riesce a camminare per le sue ali di gigante questa poesia è tutta sulla grandezza dell'artista il quale artista rifiutato e marginato dalla società rimane si lascia si lascia sfottere si lascia emarginare perché convinto che le sue ali sono così ampie che potrà continuare a viaggiare a volare libero a prescindere dalla società in cui vive Baudelaire ma l'armè Verlaine tre grandi poeti francesi che danno vita a questa corrente che si chiama simbolismo che arriva in Italia e si chiamerà decadentismo e dunque questi tre poeti francesi sfidano la morale borghese facendo uso addirittura di oppio di droghe di una sessualità sfrenata in Italia non si usano gli stessi sistemi di vita i poeti decadentisti sono tre poeti che non arrivano alle sfrenatezze dei simbolisti francesi ma sono tre poeti che tre quattro poeti sono Pascoli, D'Annunzio, Svevo e Pirandello che in qualche modo fanno un'analisi introspettiva anche loro sono contro la società borghese e non tutte e tre Gabriele D'Annunzio tra i quattro è quello che meglio rappresenterà l'eroe della società borghese, l'eroe della Belle Epoque, della seconda industrializzazione cioè l'uomo, il superuomo che mette al centro della propria vita il benessere, la bellezza mentre gli altri tre poeti italiani Pascoli, Pirandello e Svevo puntano viceversa sull'incapacità dell'uomo a immettersi in una società di questo tipo che in qualche modo ripudiano Pascoli, e lo vedremo fra un po', scrive una poesia umile, semplice, pura, introspettiva un'analisi interiore, Pascoli è turbato dalla morte del padre, il 10 agosto muore suo papà la notte di San Lorenzo, viene ucciso suo padre, pertanto è un marchio di sensibilità, di tenerezza che si porterà avanti per tutta la vita Pirandello e Svevo, viceversa, hanno tumulti di vita anche loro la moglie di Pirandello impazzisce, lui comincia a scrivere proprio il romanzo più importante della sua carriera, il fu Mattia Pascal proprio sul letto, vicino, accanto al letto dove la moglie impazziva per poi essere addirittura rinchiusa in un manicomio all'epoca si usava chiudere i folli in strutture, in strutture chiuse erano emarginati, poi con la riforma sanitaria Basaglia ha un grande medico, ha aperto questi luoghi chiusi riconoscendo dignità ai malati di mente Pirandello ha la moglie in quelle condizioni Svevo, anche lui ha dei turbamenti fallisce l'attività del padre deve vivere ma andiamo con ordine la cosa fondamentale è che Pascoli decadentista arriva una poesia pura pulita, umile, interiore Svevo dà vita a personaggi falliti che non sono borghesi non sono esponenti della società del benessere della belle époque sono personaggi in netto contrasto con il progresso la società che Svevo rappresenta è una società vittima del progresso sono tutti inetti, incapaci di agire i personaggi ma la loro bellezza risiede proprio in questa incapacità di mettere al centro della loro vita il guadagno e la produzione antiborghesi questi personaggi idem i personaggi di Pirandello che sono personaggi che arrivano addirittura ad essere senza identità c'è un altro romanzo di Pirandello che si intitola uno nessuno centomila dove addirittura il personaggio stesso non esiste più perché una stessa persona può essere uno nessuno centomila persone è la crisi della società del novecento rappresentata benissimo da questi poeti decadenti il termine decadentismo gli viene dato proprio dai critici da coloro i quali leggevano le opere letterarie e ne scrivevano per molti critici questi poeti erano decadenti non amavano il progresso non amavano l'evoluzione per loro l'evoluzione scientifica tecnologica era importante e questi poeti erano non amavano la società del progresso e quindi li definivano un po' decadenti loro vedono questo termine e gli piace cioè gli piace proprio essere definiti decadenti cioè ritengono che è molto meglio essere decadenti in una società borghese che mette al centro il guadagno e la produzione anziché essere figli di quella società che per loro porterà alla perdizione Giovanni Pascoli è il primo poeta del decadentismo italiano ma facciamo raccontare la vita di Pascoli ai ragazzi della terza A Giovanni Pascoli nacque nel 1855 a San Mauro di Romagna in provincia di Forlie durante la sua infanzia ci furono molti eventi spiacevoli tra cui l'assassinio del padre, la morte della madre e la morte dei due fratelli questi eventi segnarono la sua infanzia infatti portò a Pascoli ad avere una visione pessimistica della vita grazie a una borsa di studio riuscì ad entrare nella Università di Bologna dove fu allievo di Giosuio Carducci in quei periodi lui aderì a delle manifestazioni socialiste e anarchici però poi aderì anche a quelle anti-governo e a causa di questo perse la borsa di studio e si fece dei mesi in carcere uscito dal carcere riprese l'università e una volta laureato iniziò a fare il maestro di greco e latino prima a Matera e poi a Massa dove lo raggiunsero le sue due sorelle per ricreare un ambiente familiare poi nel 1905 venne chiamato a succedere Carducci nell'Università di Bologna e morì successivamente nel 1912 di Giovanni Pascoli a sostegno dei miei ragazzi voglio solo aggiungere o meglio sottolineare che è tormentato dalla morte del padre questo poeta lui ha 12 anni vive in questo piccolo paesino che oggi si chiama San Mauro Pascoli all'epoca si chiamava San Mauro di Romagna e vive il papà lavora in questa grande azienda agricola dei principi Torlonia di Roma e quindi è l'amministratore fa una vita in mezzo alla campagna è una persona per bene il padre viene ucciso che il ragazzo ha 12 anni esattamente l'età dei ragazzi che stiamo vedendo e ascoltando dei ragazzi che devono sostenere l'esame di maturità il figlio Giovanni Pascoli vede il papà sul carretto col cavallo però non vede le mani del papà sulle redini le redini piano più sono flosce sul dorso del cavallo pertanto il cavallo sbanda in qualche modo e poi scopre che il padre è stato ucciso con una pistolettata in fronte e ne rimane traumatizzato poi muore la mamma muoiono altri fratelli lui diventa in qualche modo il tutore di tutti diventa colui il quale cerca di raccogliere la famiglia che ha patito così tanto dolore ecco perché per lui una delle figure importanti la metafora della sua poesia è il nido cerca di ricompattare il nido con i suoi fratelli con la sua mamma prima che la mamma muoia ricompattare la famiglia la figura del nido del recupero di questa adolescenza molto forte che tutti noi uomini dobbiamo conservare questo è il grande messaggio di Pascoli non di annientare l'infanzia l'irrequietezza infantile ma di saperla conservare per tutta la vita per lui è fondamentale il fanciullo che dorme e che vive dentro ognuno di noi scrive un'opera appunto il fanciullino che è un'opera dove parla della necessità dell'uomo di conservarsi con uno sguardo puro uno sguardo infantile pulito è un aspro contrasto a quella società borghese strutturata sull'obiettivo unico del guadagno e della produzione lui invece dice che è importante conservarsi bambini e conservarsi puliti, puri e dunque a sostegno di ciò che hanno appena detto i miei ragazzi voglio ancora ricordare che Pascoli però ha un elemento molto molto interessante e unico nel panorama della letteratura italiana è un rivoluzionario, è un ribelle lui già in università a Bologna è allievo di Carducci ma già a Bologna aderisce alle idee dell'anarchia europea del socialismo europeo vuole realizzare l'eguaglianza tra le persone non ama una società dove ci sono troppi ricchi e troppi poveri amerebbe una società dove c'è eguaglianza dove ci sono i diritti rispettati i diritti per tutti i cittadini amerebbe una forma politica dove i cittadini sono liberi e dove si esprime la meritocrazia cioè i meriti vengono premiati i meriti delle persone bene Pascoli aderisce al Partito Socialista e all'anarchia e mi piace ricordare un fatto importante nel 1878 Giovanni Passannante un cuoco anarchico della provincia di Potenza di Salvia si chiamava il suo paesino vicino Potenza parte con l'intento di andare a uccidere il re Umberto I di Savoia Giovanni Passannante era un anarchico di idee mazziniane un giorno provò ad assassinare il re Umberto I di Savoia però venne arrestato e processato la sua prigionia fu spietata infatti venne messo in una cella in un'isola sotto al livello del mare questa cella era alta un metro e cinquanta un metro un metro e quaranta un metro e cinquanta era bassissima Giovanni Passannante era alto un metro e sessanta circa e quindi era costretto a stare o accovacciato o sdraiato quindi in quella cella a furia di stare nella cella lo condusse alla alla follia venne portato infine nel manicomio di Montelupo Fiorentino dove morì e venne decapitato e così il suo cervello venne portato a Roma nel museo dei criminali il cranio è il cervello di Giovanni Passannante lui continua a dire in carcere che eh lo stato italiano i Savoia hanno promesso la distribuzione delle terre ai contadini poveri eh con l'avvento del regno d'Italia nel 1861 dice Passannante avete promesso le scuole nel sud dell'Italia avete promesso le strade avete promesso i tribunali avete promesso gli ospedali e invece è nulla di tutto questo continuiamo a morire di malaria di tifo dice Giovanni Passannante continuiamo a vivere in un'area arretrata d'Europa Giovanni Passannante viene torturato a Napoli e Giovanni Pascoli gli dedica una poesia una poesia e in più organizza una manifestazione a Bologna per protestare contro la tortura che veniva inflitta a Napoli nel carcere di San Francesco a Passannante per questa manifestazione per la poesia che Giovanni Pascoli aveva scritto lo mettono in galera e si fa quattro mesi di galera per aver scritto la poesia in favore di Passannante di questa poesia è rimasto solo l'ultimo verso che dice con la berretta del cuoco Giovanni Passannante era un cuoco con la berretta del cuoco faremo una bandiera è chiaro che le sue idee sono antimonarchiche sono socialiste sono repubblicane in cui la bologna è un cuoco in cui la bologna è un cuoco e il cuoco di questa è un cuoco la bologna è un cuoco di questa giovanni pascoli scrive molte poesie vengono raccolte in varie opere ne ricordiamo qualcuna, Mirice, è una raccolta di poesie, Mirice è bello dire che sono le Tamerici, è l'arbusto più povero della macchia mediterranea, sta dappertutto anche dalle nostre parti, nel sud, in Toscana, vicino al mare, cresce questo arbusto piccolo piccolo, resiste al freddo, resiste al sole, si chiamano le Tamerici, Mirice è in latino Tamerici, ed è simbolico questa scelta, perché? Perché la sua poesia è come le Tamerici, come le Merici, cioè è una poesia povera, umile, scarna. Un'altra opera importante, sempre di raccolta di poesia, sono i canti di Castelvecchio, è importante un'altra, un'opera in prosa, Il fanciullino, appunto, dove descrive l'importanza di rimanere bambini interiormente. La poesia più bella di Giovanni Pascoli, almeno per me, è 10 agosto. 10 agosto è una poesia composta da Giovanni Pascoli, in memoria del padre Ruggero, ucciso in circostanze misteriose, il 10 agosto del 1867, nella notte di San Lorenzo. Questa poesia si intitola 10 agosto perché la notte del 10 agosto del 1867, Giovanni Pascoli, bambino, ragazzino di 12 anni, aspettava il padre che si ritirava. L'aspetta, con le altre sorelle, la famiglia, il nido familiare, e il padre sta tornando, portando come regalo alle figlie due bambole. E dunque immaginatevi sul carretto, a un posto, il padre di Pascoli, con le redini, che si ritira a casa, sta facendo notte, è la notte di San Lorenzo, la notte del 10 agosto, quando cadono le stelle, e tutti noi, tuttora, il 10 agosto, andiamo a vedere le stelle cadenti negli angolini bui dei nostri paesi o delle città. Anche nelle città ci sono angolini bui per vedere le stelle che cadono. Certo, nei paesi il buio è totale ed è più bello assistere alla caduta delle stelle. Dunque Giovanni Pascoli, da bambino di 12enne, guarda dalla finestra il padre che si ritira. Ed ecco che il padre, con la carrozza, ha un posto, arriva piano piano, ma nota il bambino, il ragazzino, che le redini sono flosce sul dorso del cavallo e non sono tese. Pertanto il padre è morto, sparato in testa da un suo rivale, un rivale che avrebbe voluto prendere il posto di amministratore di questa grande azienda agricola dei Torlonia, dei principi Torlonia, muore, torna a casa morto. Il cavallo che sa a strada, che sa a memoria la strada che deve percorrere, lo porta proprio a casa. Il papà arriva con due bambole, due bambole che aveva portato alle due figlie come regalo. E questa poesia narra che il cielo, per Giovanni Pascoli, che aspetta il padre e poi lo vede morto davanti a lui, quella notte del 10 agosto, la notte di San Lorenzo del 10 agosto 1867, diventa una notte tragica, la morte del papà. E le stelle cadenti, agli occhi di questo bambino di 12 anni, diventano lacrime del cielo che piange per la morte di un innocente che lascia soli tanti figli. All'interno di questa poesia c'è una metafora molto, molto forte, è una similitudine, cioè vede, vede il poeta, vede il padre come una rondine, una rondinella che ha un verme, un vermiciatolo nel becco e sta portando il cibo nel nido ai suoi figli. Ma c'è un criminale che spara la rondinella, cade e questa rondinella cade tra i rovi, tra le spine, è circondata di spine. E anche qui è molto bello nella poesia questo soffermarsi sulle spine, perché la rondinella cade nelle spine ed è un richiamo alla figura di Cristo, solenne, ieratico, cioè sacro. La rondinella è tra le spine come Cristo, come quando a Cristo durante il processo gli mettono la corona di spine in testa. È caduta tra le spine la rondinella e ha nel becco questo vermiciatolo che ancora si muove e dice Pascoli la rondinella mostra al cielo stellato questo verme che è il cibo per i figli che aspettano e dice Giovanni Pascoli ma il cinquettio dei figli che aspettano la madre che gli porta il cibo diventa piano piano più lontano. Cioè i figli a furia di aspettare il cibo piano piano muoiono senza cibo. E dopo aver parlato di questa rondinella che andava a portare il verme ai figli nel nido, ecco che parla del padre, dice come la rondinella portava il cibo ai suoi figli, così il papà portava due bambole alle figlie, allo stesso modo qualche criminale l'ha sparato ed ora il cielo stellato della notte di San Lorenzo piange per la rondinella e piange per il papà di Giovanni Pascoli che è stato ucciso ingiustamente ed ha lasciato tanti figli soli, affamati, a piangere e a disperarsi di dolore. Vi leggo la poesia. San Lorenzo. Io lo so perché tanto di stelle per l'aria tranquilla arde e cade, perché si gran pianto nel concavo cielo sfavilla. ritornava una rondine al tetto, l'uccisero, cadde tra spini, e la aveva nel becco un insetto, la cena dei suoi rondinini. Ora è là come incroce che tende quel verme a quel cielo lontano e il suo nido è nell'ombra che attende, che pigola sempre più piano. Anche un uomo tornava al suo nido, l'uccisero, disse perdono e restò negli aperti occhi un grido, portava due bambole in dono. Ora là, nella casa romita, lo aspettano, aspettano in vano. Egli immobile, attonito, addita le bambole al cielo lontano. E tu, cielo dall'alto dei mondi, sereni, infinito, immortale, oh, d'un pianto di stelle lo inondi, quest'atomo opaco del male. Quest'atomo opaco del male, ultimo verso, è una critica terribile alla società del tempo. L'atomo è la particella più piccola degli elementi. Bene, quest'atomo opaco del male, scritto con lettera grande, e il male della società che ha messo al primo posto la produzione, il guadagno, non gli affetti, il rispetto, l'interiorità. Bene, questa tragedia viene inondata di stelle e le stelle che cadono inondano quest'atomo opaco del male. Una netta contrapposizione tra la bellezza delle stelle che piangono e cadono e la violenza criminale della società del tempo che contiene al suo interno una parte di malvagità e di sopraffazione, desiderio di sopraffazione degli altri. Grazie a tutti.